Chi non legge un pirla, questo è un invito a lettura del libro di Davide Dezzani intitolato Pantani per sempre. Capitolo primo, il giorno dopo, 5 giugno 1994. La gente aspetta sempre l'attaccante che scatta e se ne va, allora aspetta me, è quello che sono, è quello che so fare. Alle prime ore del mattino lo Stelvio annunciava una giornata da brividi. Poco dopo l'alba un mio collega Stefano Vegliani si era recato fin sulla sommità di quella cima leggendaria a 2758 metri di altezza per filmare la situazione a quell'altitudine. Faceva un freddo boia, nevicava, mentre le raffiche di vento agitavano le bandiere dei tanti tifosi assembrati lì, a caccia di entusiasmo e adrenalina incuranti delle condizioni proibitive. Senza sosta i mezzi spalaneve cercavano in ogni modo di ripulire le strade dal ghiaccio per renderle meno impervie in previsione del passaggio dei corridori. Sembrava che tutti i presenti portassero con sé una sorta di magica immunità. Alle folate gelide, alle condizioni meteo terribili e al freddo che avvolgeva tutto e tutti nella sua morsa. La passione per il grande ciclismo è questa. I tifosi veri non temono nulla e sono pronti ad affrontare qualunque avversità pur di stare a due passi dai loro eroi. Il caldo in casi come questo lo si trova nel cuore e quel giorno ne sarebbe arrivato in quantità. In vetta allo Stelvio, cima coppi di quel giro, transitò per primo Franco Vona partito da solo in fuga a Trafoi. Al suo inseguimento con un minuto abbondante di svantaggio viaggiava il piccolo scalatore colombiano Cacaito Rodríguez. La tappa di 192 chilometri avrebbe previsto altre due salite affascinanti e terribili, il Mortirolo e il Valico di Santa Cristina, prima dell'arrivo ad Aprica. Proprio sul Mortirolo lo scenario di quella tappa cambiò drasticamente, consegnando ai tifosi lo spettacolo che aspettavano sin dall'alba. «E' scattato Pantani», urlai all'istante al mio microfono durante la diretta. Dopo un tornante a metà salita, proprio in prossimità di una scritta sull'asfalto che disegnava il suo nome, Marco lanciò il nuovo assalto. Non erano passate neanche 24 ore dall'acuto di Merano, eppure era già pronto per un nuovo meraviglioso assolo. «Vedrai domani», mi aveva detto, ed era stato di parola. Lanciarsi allo scoperto in quel punto significava osare oltre l'immaginabile, soprattutto di fronte a campioni assoluti che non gli avrebbero certo fatto sconti dopo quanto aveva dimostrato il giorno precedente. Mancavano 60 chilometri all'arrivo, ogni metro di vantaggio avrebbe dovuto strapparlo con le unghie. Una volta ancora il suo istinto prese il sopravvento. Sotto i suoi colpi il gruppo andò in frantumi. Bugno e Indurain provarono a seguire la scia del fuggitivo smarriti in un gesto che si rivelò belleitario e inutile, e che li condusse rapidamente a rimbalzare i nermi sui propri sellini. Impossibile rispondere a quelle rasoiate incontrollabili. Berzin, che come testa dura non è secondo a nessuno, invece provò a resistere, ad accettare il duello a viso aperto, scatto su scatto, colpo su colpo. Marco e Bergeni si ritrovarono all'improvviso come due pugili inferociti sul ring, che se le suonano a viso aperto e senza paura. Testa a testa infiammavano con il loro duello i tornanti del Mortirolo, uno splendido e spettacolare azzardo che cambiò completamente il volto di quel giro. La neve dello Stelvio aveva lasciato il posto al sole rovente della Valtellina. Berzin intuì a sue spese, quel giorno e per sempre, che seguire quel ragazzo quando aggrediva la salita aveva un preciso contrapasso, bruciarsi le gambe. Pantani viaggiava sulle ali del suo attacco travolgente. O la va o la spacca. Una volta ancora. L'ammiraglia della Polti, la squadra di Bugno, stava andando in fiamme per il caldo e le pendenze impossibili, mentre il motore di Marco viaggiava a pieno regime, una cavalcata selvaggia per scrollarsi di dosso tutti i campioni. Sembrava bramasse di andare a inghiottire poco per volta i fuggitivi della prima ora che ancora lo precedevano lungo la salita. Beppe Saronni con gli occhi sgranati vicino a me commentò. Questo ragazzo è impressionante. È partito all'attacco e non ha avuto paura di nessuno senza il minimo timore di rischiare. In questo momento sulla salita più terribile del giro sta tentando l'impresa. È qualcosa di assolutamente formidabile per un atleta della sua età. Dietro a Marco anche un fenomeno assoluto come in Durain viveva una situazione complicata. Faceva fatica a reggere quel ritmo indiavolato, gli si leggeva chiaramente sul volto. forte di un'intelligenza tattica sopraffina però cercava di parare il colpo gestendo al meglio la situazione. Era secondo in classifica generale, teneva duro mulinando alla sua maniera rapporti agili ben sapendo che sotto quell'assalto anche la maglia rosa Berzin se la stava passando male. Il Mortirolo nel frattempo si era trasformato in uno stadio colorato da centomila tifosi a bordo strada che non lasciavano neanche un metro di spazio libero. Pantani continuava la sua azione senza sosta. Scattava, si alzava sui pedali e rilanciava la sua bici per andare a braccare ogni avversario davanti alle sue ruote. Ne superava uno e poi tornava subito in caccia, mettendolo nel radar un altro e poi un altro e un altro ancora. Sembrava una belva inferocita, fino a quando si ritrovò nella sua condizione ideale, davanti e da solo. Aveva staccato tutti, per arrivare lì, sul leggendario Mortirolo, terra di conquista per gli scalatori più forti. A quel punto si manifestò, più chiaro per chiunque, il suo reale obiettivo, la sua sfida impossibile, ormai diventata tanto ambiziosa quanto solida. Il Panta non voleva soltanto vincere la tappa, voleva scalare la classifica generale. Restavano ancora 50 chilometri davanti al suo manubrio, così, su consiglio dell'ammiraglia, Marco decise di interpretare l'ultima parte della corsa con sapiente astuzia. Lungo la discesa si fece raggiungere da Caccaito Rodriguez e da Miguel Indurain per dividere la fatica di quel tratto che lo separava dall'ultima asperità di giornata. Una scelta azzeccatissima. Pantani respirò, recuperò energie, spartì con gli altri due lo sforzo per coprire quella posizione di percorso. Arrivato sul valico di Santa Cristina, tutto era pronto per l'affondo finale. Pantani attacca ancora, urlai di nuovo al mio microfono, mentre lui tornò di slancio ad alzarsi sulla sella per scappare via. Con una progressione fulminia, piegò un campione assoluto come il Navarro d'acciaio e uno scalatore fortissimo come Rodriguez. Li fulminò, li lasciò lì con quattro colpi di pedale devastanti per filare via, imprendibile. Ormai era chiaro. Anche la strada verso Aprica si stava aprendo a un romagnolo favoloso che non aveva paura di nulla. Lottava, pedalava, sudava, mentre la gente cominciava a innamorarsi di lui e di quel suo modo di correre così straordinariamente travolgente, così intimamente rivoluzionario. Sulle strade del giro stava sbocciando un campione. Marco arrivò da solo, completando il suo piano d'azione e vincendo quella tappa, la più dura della Corsa Rosa. Rilegò in Durain a oltre tre minuti di distacco. Berzina quattro escalò le gerarchie della classifica generale. Soltanto pochi giorni prima era un giovane promettente, semi sconosciuto al grande pubblico, ora si trovava al centro dell'attenzione e in seconda posizione in classifica. Aveva spodestato niente meno che il grande Miguel. Quel 5 giugno fu evidente a tutti quale portentoso talento scorresse nelle fibre muscolari di quel ragazzo orgoglioso e temerario venuto da Cesenatico. Il polio finale di Milano recitò Maglia Rosa a Berzin, secondo gradino per Pantani, terzo per Indurain. Due ragazzi giovani e terribili avevano regalato scintille, spettacolo e emozioni, lasciando al dominatore di due giri d'Italia un ruolo da comprimario. Il Navarro però si rifece subito, un mese più tardi, vincendo per la quarta volta di fila al Tour de France. A pochi centimetri da lui, sul terzo gradino del podio, si presentò ancora Marco Pantani. Non conquistò neanche una frazione, ma sulle salite francesi infiammò le strade e il pubblico con altre galoppate indimenticabili. Due grandi corse a tappe, due podi. Guardandolo lassù, a Parigi, sugli Champs-Élysées, iniziò a prendere forma piano piano anche il mio sogno, vederlo un giorno con la maglia gialla a fasciagli il petto. Capitolo 2. Un giorno all'improvviso. 19 febbraio 2021, 27 anni dopo. Per vincere Pantani non ha bisogno del doping, ma ha bisogno delle salite. Il Covid stava attenuando lentamente la sua morsa. Milano un po' per volta cercava una timida ripartenza dopo mesi terribili. Sul naviglio, tra le rive e le panchine della Darsena, uomini e donne d'ogni età ricercavano piccole tracce di pace in quella mattina di febbraio. Dagli altoparlanti delle radio e delle tv riecheggiavano nei bar gli inevitabili aggiornamenti su contagi ancora troppo elevati, sulle varianti in arrivo, sui diversi e cangianti colori delle regioni. Un'atmosfera straniante, nonostante si cercasse lentamente di tornare alla tanto auspicata normalità. Si viveva dentro una realtà sospesa, un tempo ovattato dal timore di nuove minacce in arrivo e appesantito da una crisi economica che aveva lasciato segni profondi, difficili da affrontare. Era un venerdì, il 19 febbraio del 2021. Soltanto un anno prima, in pieno lockdown, le rive di quel fiume venivano solcate dai gabbiani, dalle anatre e dai cigni che incredibilmente avevano fatto la loro comparsa. L'assenza dell'uomo aveva lasciato spazio, per una volta, alla natura anche in piena città. Pareva un racconto fantascientifico e a tratti alienante, per quello scorcio della vecchia Milano solitamente divorato dal traffico caotico. Passeggiavo osservando come la città stesse timidamente riprendendo vita, energia, sebbene in giro si vedesse ancora molta meno gente rispetto alla normalità. Nonostante fosse pieno inverno, l'aria era temperata e così decisi di concedermi una colazione all'aperto in uno dei tanti locali che costeggiano la sponda di ripati cinese. Il naviglio faceva da specchio ai timidi raggi del sole che accarezzavano il mio rito quotidiano della lettura dei giornali. Iniziai come sempre dalla gazzetta dello sport. La tenevo in mano da almeno dieci minuti ormai senza sfogliarla. La leggera brezza che soffiava sull'acqua agitava le pagine del giornale lasciandole frusciare sotto la spinta delle folate. Erano troppi i ricordi, le sensazioni che si affollavano nella mente dopo aver dato una rapida sbirciata alla prima pagina. Ora fate marciare Alex. Strillava il titolone a nove colonne con una foto grande del marciatore Alex Schwarzer avvolto da una bandiera tricolore. Era l'annuncio della sua assoluzione. Il jeep di Bolzano, Walter Pellino, lo aveva dichiarato innocente. Nel 2016 non ci fu doping, aveva decretato il magistrato. La pleta altoatesino è stato incastrato. Parole chiare che sancivano la fine di una vicenda giudiziaria lungo ormai più di sei anni, intricata, dolorosa. Nessuno avrebbe potuto cancellare l'umiliazione, la sofferenza per l'esclusione dai giochi olimpici di Rio de Janeiro nel 2016, le ferite interiori e profonde per quell'intenso periodo di battaglia legale e umana. Ma certamente quel pronunciamento rappresentava una vittoria importantissima per Alex Schwarzer e per chi aveva da sempre fermamente creduto nella sua innocenza. Quella assoluzione era destinata ad aprire uno squarcio profondo oltre che sinistro sulle dinamiche dei controlli antidoping ufficiari. Sanciva in modo netto la possibilità che qualcuno potesse manipolare una fialetta da esaminare. Anzi, era proprio da quel sospetto, divenuto poi prova sostanziale, che prendeva spunto la decisione finale assunta dal giudice. Si ritiene accertato, scriveva il GIP, con alto grado di credibilità razionale che i campioni d'urina prelevati ad Alex Schwarzer nel gennaio 2016 siano stati alterati, allo scopo di farli risultare positivi e dunque di ottenere la squalifica e il discredito dell'atleta, come pure del suo allenatore Sandro Donati. Secondo il GIP, la fiala contenente i campioni biologici di Schwarzer, insomma, era stata scientificamente manipolata allo scopo di farlo risultare positivo. Una sentenza clamorosa che gettava ombre oscure sui test ufficiali e sugli organi di controllo dello sport mondiale. Sta pensando ciò che penso io, per caso? Improvvisa, una voce proveniente dal tavolo di fronte al mio distolse l'attenzione da ciò che stavo osservando. Molto bene, questo è tutto. Spero che questo estratto vi abbia incuriosito. Secondo me è un libro bellissimo assolutamente da leggere, io lo leggerò. Vi ringrazio per l'attenzione, fatemi sapere se lo leggerete anche voi. Alla prossima!